L'Italia del tennis vince la Billie Jean Cup. È una novità importante quella che vi annuncio in questo video di oggi, 21 novembre 2024, che ha a che fare proprio con il nostro paese, con la nostra nazionale di tennis, proprio l'Italia, la quale, ripeto, conquista questo stupendo, meraviglioso, straordinario premio, la Billie Jean Cup. Possiamo dire che certamente Bronzetti e Paolini sono letteralmente da urlo. E finalmente, ripeto, sottolineo, finalmente la Coppa torna nel nostro amato paese, l'Italia. Dopo ben 11 anni di tempo, finalmente l'Italia del tennis torna a riemergere, torna a farsi sentire, a farsi percepire e ottiene un premio importante, la Billie Jean Cup, sfidando, scontrandosi letteralmente contro la Slovacchia, la quale Slovacchia perde contro l'Italia, contro il bel paese, sconfitta viene e quindi l'Italia può tirare. Non uno, ma più sospiri di sollievo con questa stupenda, straordinaria, meravigliosa vittoria che giunge come un fulminaccio e sereno nell'Italia del tennis. Va bene? Voglio fare complimenti a Bronzetti, quindi a Paolini, mi sembra il minimo sindacale, perché l'Italia del tennis emerge, riemerge e soprattutto ottiene un merito premio, la Billie Jean Cup. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, una buona giornata.